Una testimonianza cristiana condivisa è particolarmente necessaria davanti alla diffidenza, all'insicurezza, alle persecuzioni e alle sofferenze sperimentate da tante persone nel mondo di oggi. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza una delegazione ecumenica dalla Finlandia in pellegrinaggio a Roma per la festa di Sant'Enrico, patrono del paese, visita che avviene durante la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il vescovo luterano Wikstrom, che ha guidato la delegazione insieme al vescovo cattolico Sippo, ha ricordato che cattolici e luterani possono fare molto insieme per rendere testimonianza della misericordia divina nelle nostre società. E il Papa, citandolo, ha aggiunto che questa testimonianza comune può essere sostenuta e incoraggiata dal progresso nel dialogo teologico tra le chiese. Ha quindi sottolineato che la dichiarazione comune sulla dottrina della giustificazione, firmata ufficialmente poco più di 15 anni fa tra la Confederazione Luterana Mondiale e la Chiesa Cattolica, può continuare a produrre tra noi frutti di riconciliazione e di collaborazione. Papa Francesco si è quindi augurato che dal dialogo nordico luterano cattolico in Finlandia e in Svezia, sul tema giustificazione nella vita della Chiesa, quindi sul concetto di Chiesa, segno e strumento della salvezza donataci in Gesù Cristo, possa emergere un'ulteriore convergenza.